Quartiere satellite di Pioltello, comune a 15 km da Milano, una zona multietnica, palazzoni di 9 piani tutti uguali, chi arriva per la prima volta rischia di perdersi, 8.000 residenti, quasi 5.000 di nazionalità straniera, il 50% sono irregolari, 80 etnie diverse. Io abito in questo condominio qua nella scala qua a secondo piano, siamo molto disastrati. Da quanti anni abita qui? Sono 20 anni. Sono cambiate le cose rispetto a... Sì, tanto, sono cambiate tantissimo, italiani non ce ne sono più, le case sono svalutate. Una vita difficile per chi tanti anni fa ha lasciato il sud per un futuro migliore e invece è piombato nella povertà. I riscaldamenti sono 5 anni che sono spenti perché nessuno pagava. Quindi è stato al freddo. Siamo al freddo. Noi oggi siamo costretti a pagare per quelli che non pagano. Una donna vuole parlare ma ha paura e sceglie di non farsi riconoscere. C'è troppa delinquenza, ho tre figli, io ho paura perché prima quando sono venuto ad abitare non c'era questa cosa qua. E io sono stufa perché chi parla sempre sono sempre io che chiamo i carabinieri. Ti viene uno addosso senza motivo, ti spara e cosa facciamo?